Praticamente c'è questo tizio che imbocca l'autostrada, no? E dopo un minuto sente urlare alla radio Oh, attenzione, attenzione! C'è un pazzo in contromano sulla uno E il tizio si guarda intorno e fa Ma che uno solo? Qua saranno mille! Ma hai capito, fa? Ho capito, ecco però, ho capito C'è sta sto tipo che pensa a danno giusto, pensa a danno bene E invece no, sta in contromano, sta Eh, esatto Ma la mia era una metafora Che metafora è? Ah, fè, cioè ci stanno tutti che ci stanno dicendo State a fare una cazzata, state a fare una cazzata E in effetti forse stiamo a fare una cazzata Capito? E continuiamo così, cioè È come se siamo noi che stiamo andando contro mano Dici?